In questo appuntamento con Unicam News, finanziato progetto di mobilità internazionale tra Unicam e la University of International Business di Almaty in Kazakistan. Ha aperto il bando per la ricerca di idee innovative per studenti Unicam e delle scuole superiori. Seminario del Rettore Pettinari all'Istituto di Istruzione Superiore Mattei di Recanati. Sabato 2 marzo torna l'appuntamento con porte aperte in Unicam. E ben ritrovati al consueto appuntamento con Unicam News. Abbiamo sentito i titoli, allora partiamo subito con il primo servizio. Nei giorni scorsi una delegazione della University of International Business di Almaty in Kazakistan ha partecipato in Ateneo ad un seminario previsto nell'ambito del progetto Erasmus Plus, tra i due Atenei, che è stato finanziato dalla Commissione Europea. Il progetto, che nasce da una decennale collaborazione tra la Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam e l'Ateneo Kazako, è coordinato dal professor Carlo Luccheroni e consiste nella mobilità di studenti, professori e tecnici tra i due Atenei su specifiche tematiche, quali il diritto contrattuale italiano ed europeo, il learning, l'insegnamento delle materie scientifiche. Presenti in Ateneo le professoresse Meriwirt Narenova e Anar Makmitova, prorettore quest'ultima per gli affari accademici dell'Ateneo Kazako. È aperto il bando di Unicam Business Game, una iniziativa voluta nell'ambito della delega per start-up, spin-off e incubatore tecnologico volta a promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale nella comunità universitaria e degli istituti di istruzione superiore, nonché l'integrazione tra competenze per costituire team con know-how trasversale finalizzato alla presentazione di idee imprenditoriali con contenuto innovativo. Il contest è rivolto sia agli studenti Unicam che agli studenti delle scuole superiori che seguono un percorso di alternanza scuola-lavoro nel nostro Ateneo. Unicam assegnerà tre riconoscimenti alle migliori idee innovative orientate al mercato. La partecipazione all'iniziativa è gratuita e saranno ammessi singoli partecipanti, gruppi composti da un massimo di sei componenti. Tutte le informazioni sono disponibili all'indirizzo www.unicam.it. Le domande di partecipazione devono essere inoltrate entro il prossimo 15 marzo. Continuate dunque a seguirci perché presto prenderanno il via anche le nuove edizioni della Start Cup Marche e di S-Factor. Proseguono con successo i seminari tenuti dal rettore Unicam Claudio Pettinare agli studenti delle scuole superiori della regione. Un viaggio attraverso la scienza straordinaria dalla Coca-Cola alla ragnatela di Spider-Man è stato il tema dell'incontro che ha visto protagonista il rettore Pettinari, chimico inorganico, che ha raccontato ai ragazzi che hanno assistito con notevole interesse la scienza nella nostra quotidianità, tra supereroi e molecole, squadre di football e funzioni Coca-Cola e microchip. Tutto per porre l'attenzione su quanto la scienza, in questo caso specifico la chimica, ci circonda nei materiali e nelle situazioni che viviamo ogni giorno, agli allenamenti, a scuola, a casa, con gli amici, quando ci innamoriamo, quando ci arrabbiamo, quando siamo felici. Il seminario è uno dei frutti della proficua collaborazione che va avanti da diversi anni tra l'Istituto di Istruzione Superiore Mattei ed Unicam, a dimostrazione di quanto sia importante il legame tra Ateneo e Scuola Superiore. Fervono i preparativi in Ateneo per la nuova edizione di Porti Aperti e Noni. Il consueto appuntamento dedicato all'orientamento alla scelta universitaria che si terrà a Camerino il prossimo 2 marzo presso il campus universitario. La giornata dedicata alla scelta degli studi universitari rappresenta un appuntamento importante per conoscere da vicini corsi di laurea e i loro sbocchi professionali attraverso un confronto diretto con docenti, tutor e personale dei servizi dell'Ateneo. Docenti, ricercatori, professionisti, studenti universitari saranno a disposizione per ogni approfondimento e informazione. L'iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole superiori, in particolare quelli del quarto e quinto anno. Il programma completo e la scheda di registrazione sono disponibili nel sito di Ateneo www.unicam.it Bene, con questo è tutto, ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo alla stessa ora. Vi ricordo inoltre che potete trovare tutte le informazioni sull'Università di Camerino nel sito www.unicam.it Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per la visione!